del Piero, classe? 74. Esordio con la Juventus a Foggia in campo fuori casa, esordio a Bologna in campo internazionale, esordio praticamente con un gol oggi al delle Alpi. Un pensiero tuo su questa Juventus? La Juventus che c'è diciamo, la Juventus che ha dimostrato finora di essere competitiva, che man mano che andiamo avanti con le partite si vedrà cosa si potrà fare. Raccontaci un attimo la tua vita calcistica, da dove sei nato calcisticamente? Io sono nato a Conegliano, poi a 13 anni sono andato a Padova dove ho passato le ultime 5 stagioni, 4 delle quali nel settore giovanile, l'anno scorso con 10 presenze di prima squadra e poi adesso sono qua e vediamo un po' come va. Il tuo rapporto con i compagni, soprattutto con i grandi campioni? Un rapporto abbastanza normale, certo per me appena sono arrivato è stato qualcosa di particolare per davanti certa gente. Però grazie anche a loro che sono riusciti a mettermi a mio agio, sono riuscito a inserirmi abbastanza bene. Il mister ti stima molto, l'ho dimostrato mettendoti in campo nel secondo tempo in queste partite. Tu veramente in che ruolo giochi? Ma è un ruolo in attacco, poi ho giocato sia come seconda punta sia come trequartista, si cerca anche un po' di adeguarsi a quello che il mister magari richiede di fare, comunque sempre in attacco. Benissimo, noi ti auguriamo un'ottima carriera e di ritrovarti di nuovo qua a Goliador, d'accordo? Grazie, arrivederci.